ma chi è che non c'è le granate chi è il pazzo audio anche in vita io non ti può più controllare è indegno ragazzi fa schifo ragazzi con il mitraione proprio uno deve essere fortissimo con la mira è indegno cambio caricatore occhio ragazzi che è aperto nel fondo risattivo un'elettronica ma io dove ne minchia beccia dai ragà la vicchia mamma di questa minchia cambio caricatore ci tolgono gli operatori che sto a usare hola l'attaccante è stato eliminato sperate l'area dell'esplosione lei mor pronta ricarico è l'ora della sveglia danni dell'esplosione luci devo ricaricare ma non c'è nessuno in site ragazzi in gabinetto è morto è morto è morto cambio caricatore ma no zio però lì il gabinetto di merda non c'è nessuno c'è solo jager dall'altra parte ooo sta a plantare scappa scappa e dammi via noo campano è un villà noo regà regà oddio ho messo la kai burba bella 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 ma non è male queste sono le esattiche tipo di sbrugafiori ma buono il signor oveglione ma va audio audio oddio l'ho visto non muore anche la madre a polla ma non muore anche la madre non muore anche la madre non muore anche la madre ha trovato la bomba ha trovato la bomba non muore anche la rinnovazione non muore anche la sveglia mi occorre dei loro filt ho tutti in video audio hai perso il disinnescatore hai perso il disinnescatore go barbi no ma come cazzo no non è possibile no vabbè raga di qua non vuole morire sono ozzetto giuro cazzo stai mettendo un culo il difensore è rimasto ma sta sopra raga sto figlio di puttana ma guarda che pezza di merda qualcuno ha detto eh portamelo qua un attimo sto ricaricando oh jo che ci viene a rendere cambio caricatore un operatore alleato rimasto attivato un disinercatore va distrutto si pencher ehi preparo uno spettacolo 5 secondi la squadra bravo audio no lo so lo so un operatore alleato è in bagno mortale ultimo nemico rimasto che sta c'è una mica pannolone te lo stai sei tutto quanto sei tutto stai sei che scemi ma è che conci mia se cazzo dai gente non è in me giù giù OLE! E' il E' il 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 vai vai un po' la veloce fattori che sono sceme un'altra moto c'è un altro scema fatto un altro scema un altro scema un altro scema missione d'attacco riuscita non c'è un altro scema un altro scema Trovandito attivo Bancare 10 secondi Dicami il baricazzo a destra, me ne dobbiamo andare Rottila è attivo Audio Uno sta fuori dal bagno Dalla finestra di mania Goditi la spuntina Nitro piazzata Goditi la spuntina Goditi la spuntina Stabilizzo l'operatore Carico Sbagliato 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 Stabilizzo l'operatore 15 secondi 10 secondi Sbagliato 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 Sbagliato